Ciao a tutti amici di Automobile.it e bentrovati, guardate cosa vi mostro oggi, la nuova Dacia Duster. È una vettura che adoro, non voglio nessun tipo di commento negativo su questo oggetto perché è un ferro di ferro, è una vera automobile che porta in concessionaria tante cose ad un prezzo giusto e soprattutto è una macchina ultra versatile. Però prima di parlare di lei, mi raccomando, cliccate sulla iscrizione al canale, vi voglio tutti iscritti ad Automobile.it e in più cliccate sulla campanella per rimanere aggiornati su tutti i nostri nuovi video. Forse per me la comprerei bianca con i paraurti neri e i cerchi di latta, davvero non sto scherzando, la precedente generazione era così, ce n'è disponibile anche una versione per questa nuova edizione, questa è un pochino più raffinatina, un po' più curata da un punto di vista estetico rispetto a quella che io apprezzo di più in assoluto proprio perché inizia ad avere innanzitutto una caratterizzazione fuoristradistica con 700 mila miliardi di virgolette, chiederei anche aiuto da casa per aggiungere virgolette perché non è un vero fuoristrada ma in realtà il fuoristrada lo fa, quindi abbiamo una parte bassa con questa urovesciata che ricorda un po' il bull bar dei fuoristrada, abbiamo tecnologia LED, occhio per i gruppi ottici, abbiamo questa bella calandra con il logo Dacia che in tanti luoghi del mondo si sostituisce al logo Renault perché in Russia è Renault, in Sud America è Renault e in tanti altri paesi del mondo questa macchina viene commercializzata come una Renault perché di fatto è una Renault ma qui in Europa è una Dacia ed è costruita in Romania con degli standard chiaramente ultra qualitativi legati chiaramente al modo di fare automobili della Renault. rimane una macchina low cost però rimane una macchina che soprattutto all'interno ma anche all'esterno non vanta delle soluzioni incredibili per quanto riguarda gli assemblaggi o i materiali ma è stata pensata appositamente per costare poco e per essere super mega robusta, del resto è una world car, deve vivere in tutti gli scenari del mondo per cui in Italia state tranquilli che anche in scenari un po' difficili come quelli di Roma comunque ci vive alla grande. in questo allestimento che abbiamo qui, in questo esemplare che stiamo provando oggi abbiamo la trazione integrale anche questo è un altro elemento che secondo me è top per tutte quelle tipologie di clientela che vivono in montagna, vivono in campagna, hanno la casa al mare, hanno bisogno di una situazione in cui serve la trazione integrale magari qualcuno che va a sciare molto spesso, c'è anche la variante 4x2 chiaramente ma c'è anche, e anche qua un'altra cosa al top, la motorizzazione a gasolio 115 cavalli, anzi 114 per essere precisi con 260 newton per metro di copia massima a 1750 giri, un motore che conosciamo benissimo perché è montato ovunque all'interno del gruppo Renault, anche delle Mercedes hanno montato questo motore però con delle modifiche sostanziali che l'hanno reso un pochino più silenzioso rispetto a quello che poi sentiremo all'interno di questa Duster, macchina che appunto è molto interessante perché è un subino di segmento B 4,14 metri, 2,67 metri di passo che gli permette anche di avere buono spazio a bordo e gli permette anche di avere un buon bagagliaio perché abbiamo 411 litri che sono più che sufficienti per avere una quantitativo di bagagliaio giusto per l'utilizzo in famiglia 2-3 persone, 4 anche, ci stanno 5 ma in realtà insomma questa macchina si sta comodi se si viaggia in 4 richiudiamo il portellone, non c'è la GVZ quindi dovete accontentarvi di muoverlo voi a mano il faro posteriore non vanta tecnologia led ma questa Ypsilon che la rende particolarmente interessante dal punto di vista estetico e consente a questa macchina anche di avere una sua personalità appunto stilistica come la vedi dici questa è una Duster 100%, ci sono elementi furbi come sempre in casa Dacia tipo questi che sono le barre porta tutto che possono essere banalmente ruotate di 90 gradi è una banalità con una chiave a brugola ci vogliono 30 secondi e consente a questo sistema di diventare anche volendo un porta pacchi quindi ci potete mettere tranquillamente la vostra bicicletta sopra e potete andare dove volete o lì c'è insomma quello che volete che potete mettere sul tetto vi faccio vedere come è fatta sotto dai facciamolo anche questa visita sotto al cofano perché appunto il 1500 Renault viene integrato all'interno di questa piattaformina eccolo qui lo vedete è molto semplice come integrazione abbinato in questo caso un cambio manuale a 6 marce con la capacità di chiaramente trasferire la coppia anche sull'asse posteriore è una vettura prevalentemente anteriore per cui prima è davanti e poi dietro ma poi insomma quando passa dietro e poi lo vedremo perché vi porta a fare un po' di fuoristrada comunque lei ha il suo perché prima però di partire andare su strada vi faccio vedere come è fatta dentro vi faccio vedere dunque come è fatta dentro porta leggerina del resto questa è una macchina che nasce per essere fatta in modo così anche un po spartano super croccantezza ma super per quanto riguarda le parti plastiche questa pseudo pelle con la cucitura a contrasto va ad imprezzosione un pannello porta all'interno del quale corre anche questa cornice la vedete che fa parte dell'allestimento extreme di questa dacia duster piccoli dettagli riguardano anche il tunnel centrale lo vedete come viene rifinito e poi anche i sedili sono rivisti nell'estetica con l'adozione di questa cucitura sulla pelle che va a impreziosire la parte centrale in stoffa e la parte superiore mi piace perché c'è il logo duster in basso rilievo per quanto riguarda appunto la plancia stesso discorso che facciamo per le porte quindi super materiale plasticoso ma di fatto è una macchina che ha tutto quello che serve per essere comoda e allo stesso tempo anche funzionale perché questo display da 8 pollici che troviamo qui al centro della plancia non solo vanta diciamo una multimedialità relativamente buona ma offre apple carplay ed android auto quindi sono due soluzioni che vanno ad interagire con i vostri smartphone e lo fanno anche in wireless e questa è una delle novità chiaramente di questo modellier con appunto una tecnologia che non è l'ultimo ritrovato della scienza ma però consente a questa duster di essere funzionale al massimo anche nel rapporto con la vostra tecnologia per quanto riguarda la strumentazione invece abbiamo un doppio quadrante analogico con il computer di bordo lo vedete lì al centro non è a colori ma di fatto ha tutto quello che serve per farvi sapere cosa sta succedendo all'interno del motore soprattutto i consumi che sono molto bassi ma poi lo vedremo doppia porticina usb do presa 12 volt un porta bottiglie qui nella parte bassa cambio rigorosamente manuale anche per le varianti con il 1000 turbo perché c'è anche il 1000 turbo tre cilindri sia benzina ma anche gpl quindi occhio perché quella è una variante molto interessante poi si sale anche con le potenze perché ci sono anche motori da 150 cavalli non so se te ne fai di così tanta potenza una duster ma di fatto c'è anche il motore quello un pochino più bombardone se vi piace andare un pochino più forte qui c'è la regolazione la vedete del sistema di trazione integrale si può andare a scegliere o solamente di spingere con le ruote anteriori o lasciare tutto all'elettronica oppure andare a forzare l'utilizzo della trazione integrale questo consente appunto di avere la certezza di avere la trazione anche dietro quando serve il pannellino della climatizzazione è digitale in questo caso perché siamo nella versione top di gamma quindi abbiamo anche la climatizzazione automatica e poi qua ci sono tutta una serie di piccoli tasti che vanno ad attivare volendo anche la retrocamera di parcheggio che si attiva ovviamente anche quando andiamo a inserire la nostra retro quindi una è questa tra l'altro anche una fronte camera di parcheggio e poi c'è anche la telecamera laterale la vedete destra e sinistra direi che c'è praticamente tutto all'interno di questa Duster compreso il cruise control passivo che fa parte della dotazione l'unica cosa che non mi piace è il satellite per la regolazione della radio il volume e la scelta della della radio per intendi ci sono all'interno di questo elemento che non mi è mai piaciuto nel contesto del gruppo Renault ma di fatto quello è saliamo a bordo vi faccio vedere come si sta all'interno di questa Duster due metri 67 di passo tenete conto che il sedile in questo momento è regolato sulla mia posizione quindi è molto arretrato molto arretrato ma come vedete tocco appena 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 con le ginocchia ma qui sotto ci sto anche abbastanza bene il passeggero centrale certo non ha moltissimo spazio anche perché c'è il tunnel per far passare l'albero di trasmissione ma di fatto volendo ci si sta anche in 5 più comodi in 4 ma ci si sta anche in 5 detto questo è arrivato il momento di scendere su strada con questa nuova nuova tra virgolette Dacia Duster vedere come va e soprattutto poi tirare le conclusioni su prezzo che è sempre molto interessante andiamo ed eccoci al volante della nostra Dacia Duster 1500 turbo diesel 4x4 una vettura come vi dicevo prima super versatile spinta da un motore che ha 115 cavalli 260 newton per metro di coppia massima pesa poco più di 1400 chili per cui anche le prestazioni sono piuttosto buone accelera da 0 a 100 in 10 secondi e 2 ma quello che chiaramente ci piace di questa macchina è che consuma davvero pochissimo perché con 5,5 litri di gasolio ogni 100 chilometri realmente si va dappertutto in autostrada in città la macchina ha delle medie di consumo che sono piuttosto equivalenti lungo tutti i percorsi e quello che ci si ritrova alla fine sul computer di bordo è appunto un valore sotto i 6 litri ogni 100 chilometri che è realmente straordinario anche per un SUV di segmento B proprio perché questo motore che da anni viene sviluppato dal gruppo Renault oggi è arrivato ad un punto di perfezione perfetta consentitemi il gioco di parole ma realmente questo motore è molto ben fatto ha la spinta giusta la potenza giusta appunto il consumo giusto e consente a questa meccanica di esprimersi secondo me al meglio perché non c'è solo attrazione anteriore ma c'è anche attrazione integrale che è una cosa estremamente utile per tutti coloro i quali vogliono una macchina ancora più versatile di quello che è già versatile è una duster senza però andare troppo oltre nel prezzo di listino e poi lo vedremo una macchina che è molto spaziosa all'interno è anche relativamente comoda chiaramente non si può pretendere di avere dei materiali di altissimo livello ma l'aspetto tecnologico che si ritrova all'interno di questa vettura comunque la porta ad un livello superiore rispetto alle dacia che avevamo conosciuto sino a pochissimo tempo fa e devo dire che si avvicina molto anche alle vetture premium siamo molto distanti come materiale non c'è proprio paragone ma comunque l'approccio che si ha in termini di multimedialità è molto simile a quello delle vetture di pari categoria che appunto offrono anche loro lo schermino ad 8 pollici e apple gameplay ed android auto come vi dicevo nasce come world car per cui è intrinsecamente un progetto robusto è un telaio che è stato pensato per essere appunto in grado di adattarsi a qualunque situazione a livello mondiale e la cosa che mi piace è che in un secondo basta semplicemente ruotare la manopolina che ho qui al centro del tunnel possiamo trasformare questa piccola cittadina in un vero off-road ci tuffiamo in una stradina di campagna che utilizzo spessissimo nei miei giri in mountain bike e iniziamo un breve percorso fatto di sassi di terra di legni che ti tagliano la strada insomma un percorso relativamente complicato appunto siamo appena usciti dalla strada e come vedete siamo qui a percorrere tranquillamente una stradina che con una macchina normale sarebbe abbastanza impegnativa ho semplicemente messo il sistema di trazione su 4x4 fisso e sono entrato in questa stradina di campagna veramente impegnativa qua con la punto di zia ragazzi non ci passate so che spesso quando parliamo di off-road mi dite che con la macchina normale certi percorsi si possono fare ed è anche vero ma qui con la punto di zia non si passa perché i sassi sono molto alti bisogna avere una macchina molto alta da terra ma soprattutto bisogna avere realmente la trazione integrale soprattutto se è appena piovuto per passare appunto su un terreno piuttosto accidentato è vero che non siamo a bordo di una defender quindi non è una macchina che nasce per essere un vero 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 fuori strada ma è una vettura che certamente ha dalla sua il fatto di essere super robusta caratterizzata da una escursione delle sospensioni veramente notevole e caratterizzata anche da un sistema di trazione integrale l'avete visto semplicemente ruotato il manettino che ho qui al centro che si attiva in un millesimo di secondo e consente di avere tutta la trazione che serve anche se appunto uscite fuori dalla città senza esservi programmati banalmente puntando su quattro ruote con una gommatura un pochino più specialistica rispetto a quella che può essere una normale gommatura estiva e appunto puntando su una meccanica che è realmente molto efficace tenete conto che qui abbiamo una prima molto corta ed è questo che rende molto efficace la duster anche in fuori strada perché si la prima corta forse può essere un po fastidiosa quando si va in città perché bisogna mettere subito la seconda potenzialmente si parte anche in seconda con questa macchina ma nel momento in cui andiamo a utilizzarla in off road è sostanzialmente quasi come avere le marce ridotte in più abbiamo tantissima coppia il motore già a partire dai 1000 1200 giri gira che è una bellezza e anche percorsi come questo beh vengono mangiati nel vero senso della parola la macchina che appunto è bella altina da terra non tocca quasi mai sotto anzi mai nemmeno se siete appena carico e questo dimostra da un lato il suo essere world car cioè una macchina concepita per essere venduta in tutti i mercati del mondo con caratteristiche spesso anche vicine a quelle delle strade che stiamo percorrendo in questo momento e appunto deve essere una macchina in grado di affrontare qualsiasi tipologia di terreno anche puntando su soluzioni meccaniche economiche ma anche furbe allo stesso tempo perché qui l'elettronica comanda sulla trazione integrale l'elettronica vi aiuta anche a gestire alcune situazioni come la velocità in discesa quindi basta anche qui banalmente premere un tasto quello dell'indicente controlla per avere il controllo della velocità della singola ruota nelle fasi di discesa cosa che non potete fare banalmente con gli strumenti che avete a disposizione l'acceleratore il freno fra mano quello che volete e potete scendere le vostre discese anche in off road molto impegnativo come questo banalmente mollando l'acceleratore tenendo premuta la frizione la macchina gestisce autonomamente la velocità in discesa vi fa andare giù molto sicuri molto diciamo con la giusta velocità e soprattutto con la giusta sicurezza dimostrazione appunto di come questo progetto sia in grado di adattarsi a qualsiasi tipo di terreno realmente qua il sentiero sta facendo sempre più stretto sempre più fitto solitamente qua ci passo con la mountain bike oggi ci passo con la duster perché sapevo che sarebbe stato in grado di percorrere anche una strada come questa e lo sta facendo realmente alla grande con una facilità devastante ed è questo poi il bello di questo prodotto perché riesce a fare realmente tutto cioè portare i vostri bambini a scuola e portarvi a fare la spesa ma allo stesso tempo se vi trovate in situazioni come queste belle passa che nemmeno se ne accorge a questo punto direi però di parlare di prezzi perché non c'è solamente questa variante 4x4 con tutto quello che serve per farvi fare tutto questo ma ci sono anche quelle un pochino più semplici con il motore tre cilindri 1000 anche a gpl e poi ci sono anche delle versioni un pochino più potenti da 150 cavalli che magari costano qualcosina di più che secondo me non servono su una duster e offrono molto in termini di contenuti a questo punto scendiamo ed andiamo a vedere quanto costa ed eccoci qui prova terminata lo sapevo che il dusterone sarebbe andato dappertutto perché il suo progetto nasce per essere venduto in tutto il mondo e quindi strade come queste sono all'ordine del giorno in molte parti del mondo per questa macchina 14.300 euro circa il prezzo di listino per la base 1.300 cilindri poi via via si sale anche con le varianti gpl e per arrivare a questa con il 4x4 turbodiesel fotonica beh si spende di più si spende 23.700 euro ma avete una macchina in grado veramente di fare qualsiasi cosa un piccolo carormatino inarrestabile che consente chiaramente anche di avere una buona versatilità urbana perché è compatta ma allo stesso tempo anche un piccolo fuoristradino mettiamola così quando vi serve andare fuori dall'ordinario e come avete visto fuori dall'ordinario si va alla grande prezzi giusti secondo me appunto dai 13 ai 23 e soprattutto direi anche la macchina equilibratissima è che capisco per quale motivo sta avendo così tanto successo anche in italia con questo è tutto non mi rimane che invitarvi a commentare qui sotto mi raccomando vivo alla persona per l'auto iscrivetevi al canale automobile punti cliccate sulla campanellina per rimanere aggiornati su tutti i nostri nuovi video ciao e a presto